Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di questa riforma costituzionale, un referendum che avverrà fra qualche mese, probabilmente verso ottobre, di questo ne ha parlato ieri il Consiglio Comunale il consigliere Nicola Lagrutta, un intervento il suo che è stato mirato ad informare i cittadini di quello che c'è all'interno di questa riforma, quello che c'è che realmente non viene mai detto. Qual è la problematica? Un intervento anche, permettimi di dire, molto accorato perché la democrazia in questo Paese non deve assolutamente arretrare né involversi, dobbiamo andare avanti. E allora, referendum costituzionale, voglio dare delle informazioni intanto ai cittadini immediate e dirette, di modo che ognuno poi è nelle condizioni di informarsi anche da sé. Allora, diamo la prima informazione, Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2016, se andate a cercare su internet la trovate, trovate il testo di questa riforma costituzionale che costa di oltre 40 articoli. Vi andate a scaricare il testo, c'è da sapere che con un sì o con un no deciderete su 40 articoli della Costituzione. Dico subito che io voterò no. Perché voterà no? Voterò no, semplicemente per il fatto che non si può impedire a cittadini italiani di scegliersi coloro i quali fanno le leggi. Io pretendo, non desidero, voglio, io pretendo che a me stesso, a tutti i cittadini italiani, quelli di adesso, quelli di domani, quelli che verranno, sia data la possibilità di mantenere la loro sovranità popolare. Vuol dire che i senatori che fanno le leggi devono essere votati dai cittadini. Cosa hanno scritto invece in Costituzione? Hanno scritto, all'articolo 2, c'è scritto che i consigli regionali eleggono i senatori tra i propri componenti. Quindi hanno abolito, stanno scrivendo che hanno abolito il diritto del cittadino di votare il senatore. Quindi o cancellavamo completamente il senato e lasciavamo una camera... Eppure si fa tanto parlare di questo bicameralismo che viene eliminato, quando nella realtà non viene eliminato. Assolutamente no, rimangono 100 i senatori, 100 senatori che vengono nominati perché questi consigli regionali, una volta eletti, fra di loro decideranno che sono i senatori che hanno, tra l'altro, dall'articolo 1 c'è scritto che il senato concorre all'esercizio della funzione legislativa. Quindi gli lasciano competenza nel fare le leggi e partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione Europea. Per quale motivo cittadini stanno proponendo un referendum di modifica costituzionale in cui c'è scritto che il cittadino non può votarsi più i senatori e i senatori non tengono la possibilità di legiferare su ambiti specifici piccoli, però su ambiti che riguardano la comunità europea. Ma stiamo scherzando? Ci sono scritte altre cose che possono anche essere positive, ma questa di per sé le annulla tutte. Ecco perché bisogna votare no. Altra informazione, non c'è quorum. Non c'è quorum vuol dire che non sarà come il referendum sulle trivelle. I referendum costituzionali che sono stabiliti nell'articolo 138 della Costituzione non prevedono assolutamente che bisogna votare per essere valido il referendum il 50% più uno dei cittadini italiani. No, anche se vota il 10%, anche se vota il 20%, anche se votano pochi cittadini. Il risponso passa. Il risponso passa. Quindi io invito tutti a votare no, a impedire questa involuzione antidemocratica dell'Italia. Vi ricordate il porcellum? Sì, sì. Ci fu la Corte Costituzionale che in una sentenza disse che il porcellum, questa legge elettorale, era sbagliata. Perché di per sé bisognava andare avanti, migliorarla. Il miglioramento quale può essere? Può essere intanto che io voto con nome e cognome il senatore, con nome e cognome il parlamentare che voglio faccia le leggi. Invece di evolvere in questa direzione stanno proponendo oltre 40 articoli in cui nei primi articoli c'è scritto che il cittadino non solo non potrà votare con nome e cognome, non potrà più votare direttamente il senatore. Questa cosa è assolutamente sbagliata. Sulla falsa riga di quella che è stata l'eliminazione della provincia praticamente, perché anche lì hanno detto che toglievano le province, ma in verità ci sono questi consorsi che anziché essere eletti vengono nominati. Piera, la cosa è sottile. L'abolizione delle province. L'hanno chiamata in maniera diversa. Sì, l'hanno chiamata in quella maniera, ma in realtà è come se avessimo mantenuto i consiglieri provinciali e l'amministrazione provinciale però senza poterla votare. In realtà l'abolizione delle province è stata abolita la classe politica, cioè non c'è più un voto negato. In realtà la classe politica delle province non c'è più. Qui invece in Costituzione si lasciano 100 senatori, quindi non si abolisce il senato, ma si impedisce al cittadino di potersi votare senatori. Questa cosa è assolutamente sbagliata. Poi un'ultima cosa, lo so ci tenevo a essere breve, ma io molte volte non riesco a essere breve. Vedete, la Costituzione serve ad allargare la sovranità popolare, a questo serve, e poi soprattutto stabilisce dei principi. Questi principi devono essere chiari, espressi con parole chiare e devono essere sempre valdi. Bene, in uno di questi articoli c'è scritto come si stabilisce, come si vota il Presidente della Repubblica. L'articolo 21, vi ricordo, scaricate alla cadetta ufficiale del 15 aprile 2016, ci sono scritti questi articoli. Andate a vedere l'articolo 21, c'è scritto che come si legge il Presidente della Repubblica, dal quarto scrutino è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Quindi l'Assemblea dei parlamentari si riunisce, i tre quinti dell'Assemblea, dal quarto scrutino, possono decidere chi è il Presidente. Cosa succede però, ecco la cosa assurda, dal settimo scrutino in poi, molte volte succede che si arriva a questo punto, molto spesso nel settimo. C'è scritto, dal settimo scrutino è sufficiente la maggioranza dei tre quinti, non dell'Assemblea, dei tre quinti dei votanti. Vuol dire che se dovessero essere i votanti semplicemente cinque, caso assurdo. Se dovessero essere alle quattro del mattino cinque riuniti e si votano il Presidente della Repubblica, in Costituzione c'è scritto come principio all'articolo 21 che basta al settimo scrutinio, che è la maggioranza dei tre quinti dei votanti, basta che tre di quelle persone che si sono riunite sui cinque votano una persona e facciano il Presidente della Repubblica in questa maniera. Questa modifica costituzionale è stata fatta con assoluta, con la non dovuta attenzione, è stata fatta con un piuttosto, con superficialità e questa involuzione, la costituzione si può cambiare. Certo, però sembra che anziché andare avanti stiamo tornando indietro. Indietro, indietro. Io mi aspettavo dei cambiamenti diversi, dei cambiamenti che portassero veramente ad ampliare ancora di più la solennità del popolo e quindi a rendere il popolo ancora più partecipe. Anziché arrivare che il popolo può comunque anche scegliersi il Presidente del Consiglio, che sarebbe pure ora che fossimo noi a scegliere il Presidente del Consiglio, ci tolgono anche la possibilità di eleggere i senatori. Il diritto di voto va a farsi benedire. Ma la possiamo chiamare questa? Democrazia? Secondo te la possiamo chiamare? Democrazia? Diciamo che la democrazia... non voglio estrimermi, perché rischierei di dire cose, parole pesanti, che se le meriterebbero tutti, il punto è che lo scopo deve essere di rimettere le chiave della democrazia in tasca ad ogni singolo cittadino. Ogni singolo cittadino reso partecipe alla comunità attraverso anche il combattere la povertà. Il reddito di cittadinanza consente ad ogni cittadino italiano, qualora fosse approvato e questo provvedimento ha i pareri positivi, è stato già depositato, il senatore Nunzia Catalfo l'ha depositato con pareri positivi. Se andiamo a votare quel provvedimento, non capisco perché continuano a non farlo. Ogni cittadino italiano, non più povero, non più bisognoso, non più appressa al politico a cercare il posto di lavoro per i tre mesi oppure il lavoro per il figlio, no, perché con 780 euro ad ogni persona che è senza reddito, noi riusciamo a combattere la povertà, a rendere libero quel cittadino di potersi votare un progetto e non che gli dà la busta della spesa o il posto di lavoro di tre mesi. Facciamo un'altra cosa, non è sussidiarietà. Questo provvedimento consente ai cittadini che momentaneamente sono in difficoltà e non hanno lavoro non di farsi il doppelavoro, quello in nero e prendersi i 780 euro, assolutamente no. L'articolo 9 di quel provvedimento, di quel disegno di legio, c'è scritto che il cittadino è automaticamente disponibile nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. Quindi i comuni, il comune di Manzata del Vallo, che ha diversi cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza, può chiedere a tutti questi cittadini ogni mattina di andare a prestare servizio per pulire le strade, per sistemare, insomma ognuno per le sue competenze si mette a disposizione della collettività. Una specie di servizio civile. Assolutamente, non ti do i soldi e ti gratti a casa, no, io ti do i soldi e tu cittadino italiano riacquisti dignità e una funzione sociale, inoltre devi obbligatoriamente, devi anche formarti, quindi non solo presti il tuo servizio e il tuo lavoro, ma ti devi formare per cercare di rimetterti in carreggiata, creare nuove aziende, nuove imprese, riconquistarti una posizione di lavoro in società. Con questa situazione, abbinata al fatto che poi le votazioni potrebbero venire, se veramente andiamo tutti in quella direzione, in maniera molto più democratica, scegliendosi le persone, scegliendosi il progetto, indipendentemente dal bisogno personale e allora sì che facciamo dell'Italia un paese veramente democratico che decide il futuro dei suoi bambini. Questa dovrebbe essere la direzione che deve prendere la democrazia italiana, la Costituzione e la politica italiana. Io auspico che queste cose diventino realtà. Bene, la democrazia possiamo benissimo dire che è sinonimo di libertà, ma la libertà passa dall'informazione, dal sapersi informare, quindi non aspettate che qualcuno vi dica cosa c'è scritto nella riforma o cosa dovete votare, ma andatela a cercare. Ricordiamo qual è? Brava, brava. Allora, la gazzetta ufficiale del 15 aprile 2016. Cercate la riforma costituzionale proposta e andate a leggere gli articoli. Li leggete tutti, ma concentratevi su questi passaggi. Ma non sono molti, per cui ce li ho tutti in mano qua io. Sono abbastanza semplici da leggere, non si perde molto tempo e sono anche facili da capire. È stato un vero piacere, io ti ringrazio per questo spazio. E niente, riconosco l'impegno, è andata a votare no. Grazie. Grazie. Grazie.